chi sta guardando questo video un'altra consegna grossa però la faccio qui non vado fuori non mi azzardo perché non mi fido più sono troppo a pelo queste consegne anche se mi dà tanti soldi fuori è solo un'illusione se 30 no la faccio qua dentro qui 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 dentro ok vediamo che fa visto gli aerei volare basso a pelo anche quella e non mi devo soltanto ricordare i mezzi forse però anche questa qui a pelo guarda col tempaccio pure veramente ti danno un filo da torcere potente queste qui la produzione del gioco tutto a millimetro un minuto l'ho perso minuto e mezzo per arrivare solo al primo aereo sì ma dammi degli aerei migliori le nostre schifezze com'è la storia qui? vola più basso possibile? tutte sul mare sono dove vado a sinistra? però bravo 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 Grazie a tutti. 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 Ecco il fumo dietro con la collina. Grazie a tutti. Un fumo lo vedo a pena pena. Grazie a tutti. Ma questa non l'ho capita. Questa proprio non l'ho capita. Come ho fatto morire non l'ho capita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Devo atterrare con lo sparro, non mi lancio. Devo atterrarci proprio. Grazie a tutti. Oh, che cazzo sta facendo? Oh, che cazzo sta facendo? No, è lì. Ho visto il fumo. Stavo mollando. Oh, che cazzo sta facendo? 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 Ok. 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 Non so se prenderlo quello no. No, non lo prendo, non lo prendo. E' da giù con questo. E ho pensato velocemente, il tempo che scendo perdevo almeno 30 secondi. Sono 30 secondi qui, in queste consegne, vuol dire tanto. 30 secondi. Apriamo il carrello intanto. Io ci atterro adesso. Infatti, vedete il fumo? Sono più vicini alle ultime. Sembrerebbe così. Ancora un pezzo di spiaggia, c'ho? E' proprio lì. Qui c'è una rete da qualche parte, eh? Che ti schianti. O che l'ho superata, mi sembra? Allora. Dai, fermati qui. Giù, 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 giù. Dai. 12 minuti ce la faccio, dai. 12 minuti, eh. Un'è proprio qua davanti, va beh. No, non è qui. Oh, queste due le vedo lontano, dietro. EdTechchi. こarare. beh questo serve giocando così qui a parte i soldi se li prendi tutti o non li prendi serve perché ci sono anche le sfide con gli aerei con questi aerei qua ci sono quindi per diventare più abili è un fatto secondo me il fumo la vedo ok, vedi, buttandone l'abitraco ho visto il fumo e poi in prima persona è più difficile credo così hanno detto per chi non ce la fa però a me piace di più è proprio una sfida proprio vera al massimo adesso dove sono le altre sulle colline sicuro c'è ancora 9 minuti e mezzo ostia, fermo, c'è un traliccio attenzione quale sarà delle due al più vicino? sembrerebbe questa sembrerebbe questa invece quest'altra con questo ho recuperato tutti i soldi del camion e ne ho ancora due da fare ho finito sulle consegne e poi c'ho ancora del tempo decido se faccio qualche missione del bunker lo riempio, attacco e poi c'ho c'ho da prendere un sacco di soldi nella nightclub ecco l'ultima ecco, è meglio farla in città questa roba e poi fatto quanto prenderà? 490 420 ok anche questo video è finito qui adesso mi... che sono proprio vicino al buzzer all'elicottero, poi mi lancio ma anzi lo voglio fare adesso prima che finisce il video 100.000 c'è in discoteca lì da andare a prendere e vedere quanto è salito lo sparro è qua sotto adesso mi lancio e chiudo il video lì e poi mi porto nelle ultime due voglio solo vedere dove ho messo lo sparro se l'avrei fatto prima il lancio è qua sotto ok è proprio qui dobbiamo subito il paracaduce eccolo là guarda guarda dove l'ho messo in strada ok eccolo qua ok questo video adesso lo concludo qui al prossimo video già c'è arriva la pula ciao a tutti